Ciao a tutti. Siamo giunti alla puntata dell'11 maggio. Una giornata che porterà nella trama di Beautiful una serie di colpi di scena che lasceranno tutti i nostri personaggi senza fiato. Nonostante gli sforzi instancabili di Deacon, si scontrerà con l'impenetrabile muro emozionale di Ridge. Le sue parole, cariche di sincerità, non riusciranno a convincere Ridge a perdonare Brooke né a credere nella sua lealtà. Deluso dall'esito del loro incontro, Deacon si affretterà ad informare sua figlia, Hope, dei dettagli avvenuti. Determinata a fare la differenza, Hope prenderà una decisione audace. Affrontare personalmente Ridge. Cercando di dissipare le nubi di dubbio che avvolgono la sua fiducia. Nel frattempo, Steffi gioirà a pieno dei momenti di felicità accanto a Finn. La cui presenza rappresenta per lei un porto sicuro per l'anima. La gratitudine pervaderà il suo cuore per la gioia che permea la sua famiglia. Il ritorno di sua madre a Los Angeles, riunendosi a suo padre, sarà un dono inestimabile che le ispirerà una profonda gratitudine. Steffi e Finn trascorreranno dolci momenti insieme. Immersi nell'attesa del ritorno di Ridge e Taylor a casa, sognando un futuro radioso che li attende. Hope affronterà una tempesta interiore fatta di turbamenti e incertezze. Tuttavia, la sua fiamma di determinazione brucerà con ardore. Non si arrenderà facilmente e deciderà di sfidare Ridge di persona. Con parole sincere e cariche di empatia, Hope cercherà di persuaderlo che un solo errore non può distruggere un matrimonio così solido. Con maturità e coraggio. Le ricorderà che il loro amore ha superato prove ben più arduo in passato. Ma Ridge, esausto dalle delusioni coniugali, respingerà le sue parole con freddezza, lasciando Hope con un cuore pesante. Mentre Hope combatte la sua battaglia interiore, Steffi finalmente assaporerà il dolce sapore della felicità tanto agognata. Condividerà con Finn la gioia e la gratitudine per il nuovo equilibrio familiare che sta prendendo forma. La presenza di sua madre accanto a suo padre rappresenterà il regalo più prezioso che Steffi abbia mai potuto desiderare. Insieme, Steffi e Finn si sosterranno l'un l'altro. Nell'attesa dell'arrivo dirige Taylor a casa, sognando di stringere ancora più forte i legami familiari. Queste sono solo alcune delle sorprendenti anticipazioni che Beautiful ci riserva. Se desiderate scoprire ulteriori dettagli sulle vite dei nostri amati personaggi, vi invitiamo a lasciare un commento e ad iscrivervi al canale. Grazie di cuore per averci seguito e a presto.